L'intervento di bonifica dell'ex discarica in località Piano Melaino a San Marco di Castellabate è stato bloccato. Il comune di Castellabate ha realizzato un progetto volto al risanamento e alla riqualificazione di una zona di notevole interesse paesaggistico e naturalistico, risultato beneficiario di finanziamento con fondi POR Campania di 1,3 milioni di euro che adesso rischia di andare perduto dopo i rilievi che hanno messo in evidenza l'estensione effettiva dell'area necessitante degli interventi di bonifica si è reso necessario l'ampliamento del progetto originale, variante che ha ottenuto tutti i pareri favorevoli da parte degli enti preposti. Il progetto ha invece ricevuto la sola opposizione da parte della soprintendenza della provincia di Salerno e quindi del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, proponendo ricorso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Tale posizione, non favorevoli per motivazioni che al comune di Castellabate risultano insufficienti, hanno di fatto bloccato un intervento atteso e importante per la salvaguardia dell'ambiente e della salute. Di questa problematica se ne discuterà oggi alle ore 16 su Cilento Channel in diretta news con il professor Vittorio Sgarbi, il sindaco di Castellabate Costabile Spinelli, il presidente del Parco Nazionale del Cilento, Vallo Didiano e Alburni, Tommaso Pellegrino, e Michele Buonomo, già ex presidente di Legambiente Campania.